Devo protestare con vemenza contro un arbitraggio da definire indecoroso e usare un eufemismo elegante. Siamo stanchi, come l'Erchi Calcio, di subire ogni domenica un arbitraggio ingiusto, indecoroso e vergognoso. Oserei dire quasi un arbitraggio da ipotizzare la mala fede. Siamo stanchi, è stata fatta un'espulsione clamorosa, è stata fatta un'ammunizione a un altro giocatore in modo tale che ora andremo a giocare contro il San Giustino senza due giocatori importanti. Comincio a pensare che ci sia un disegno dietro per non farci salire in promozione. È una vergogna e protesto con vemenza assoluta contro la federazione, contro l'associazione degli arbitri perché mandino arbitri decenti, con un minimo di decenza e con un minimo di conoscenza del calcio. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico e protesto e voglio che vengano assegnati arbitri importanti che sappiano arbitrare e sappiano fare il loro lavoro. Comunque un grazie al mister e alla squadra che ha giocato con impegno. Abbiamo dominato 10 contro 12 perché l'arbitro giocava con loro e quindi nonostante ciò sono contento della mia squadra e otterremo comunque, nonostante i disegni che ci sono dietro, otterremo il risultato della promozione, volente o nolente. Grazie